ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che sta per arrivare nelle sale un film attesissimo che abbiamo messo anche per come film più atteso di questo mese che è loro 1 prima parte del film di paolo sorrentino su silvio berlusconi e naturalmente con protagonista toni servillo ovviamente ne parlo con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo ciao giulio buona giornata a tutti allora abbiamo possiamo dire appena visto proprio stiamo registrando il film è finito da qualche minuto abbiamo visto la prima parte di loro 1 film su berlusconi come detto è un film che appena usciti dalla sale questo è il mio parere lascia un po interdetti un po storditi è un film stranissimo perché sembra un film non di sorrentino in un certo senso ma prima di dire i nostri pareri diciamo due parole sul film di che cosa parla sì a meno questa è solamente la prima parte di un film che sarà lungo più di tre ore questo la prima parte si dura poco più di 100 minuti narra le vicende non soltanto di berlusconi ma dell'italia dell'italia siamo nel 2006 berlusconi è ormai all'opposizione e l'italia è un'italia che ha già avuto un primo governo berlusconi e quindi è l'italia che lui ha un po plasmato prima negli anni ottanta attraverso le sue televisioni e poi attraverso i lavari i vari governi è un'italia che vive nel mito di silvio berlusconi e tutta la prima parte che effettivamente sono pienamente d'accordo con te è veramente straniante è una un'attesa dell'arrivo di questo personaggio che è mitizzato e che è ormai adorato e visto come una persona inavvicinabile e soprattutto un mito da raggiungere la prima parte è tutta questa narrata attraverso le figure di Riccardo Scamarcio che interpreta Sergio Morra che poi nella realtà potrebbe essere il condizionale d'obbligo Tarantini e quella che è Kasia Smontiak ovvero Chira ovvero quella che potrebbe essere Sabina Began se vi ricordate le cronache dell'epoca era la cosiddetta a Peregina Tarantini ambisce ad avvicinare Silvio Berlusconi per poterlo rifornire di ragazze lui è un talent scout così si definisce e vorrebbe avvicinare e raggiungere il potere tutta la prima parte è una descrizione di una metafora di quella che è l'Italia vista dagli occhi di Paolo Sorrentino poi improvvisamente arriva ed entra in scena Silvio Berlusconi e il film diciamo cambia radicalmente oltre al fatto che c'è da dire il film è ambientato ai giorni d'oggi cioè nel senso il film è su Berlusconi però è diciamo gli ultimi anni quindi abbiamo un Berlusconi non abbiamo l'ascesa di Berlusconi abbiamo un Berlusconi già affermato già noto già di successo mi sembra giusto dire sì è il periodo praticamente non so se ve lo ricordate della famosa bandana del trapianto di capelli della crisi con Veroni Calario e assistiamo proprio a un Berlusconi che cerca di riconquistare l'ex moglie prima poi del famoso divorzio esatto quindi siamo intorno agli anni 2005-2010 più o meno quello il periodo in cui viene narrato ma parlando invece di come Sorrentino ha gestito e diretto questo film io dico che è un film che mi ha un po sconvolto in un senso lato nel senso che è un film che non sembra di Sorrentino perché ha uno stile di regia mi viene così da dire sembra quasi una parodia di se stesso nel senso che le riprese non sono così pulite così estetiche così precise come siamo abituati a vedere il grande cinema di Sorrentino la fotografia vuoi anche che qua gran parte del film è girato anche di giorno non è così ben delinea non delinea così bene i personaggi le figure le situazioni è una regia che spiazza ma non lo so non sono pienamente d'accordo su questo perché Sorrentino ha questo modo di narrare che è molto metaforico qua calca molto la mano soprattutto nella prima parte sul grottesco esagerando proprio certe situazioni e diventando anche un po irritante forse nella ripetizione sistematica ma io credo che il giudizio da dare definitivo di questo film sia dopo averlo visto nella sua interezza perché effettivamente la prima parte come dicevi è sproporzionata adesso dal punto di vista tecnico non so dare un giudizio a me la fotografia di Bigazzi piace sempre quindi sono un po di parte ma la prima parte effettivamente è preponderante quasi due terzi del film e l'arrivo di Berlusconi è proprio atteso come se fosse cosa è effettivamente un qualcosa di eccezionale ma calcando la mano su determinate situazioni e andando in modo molto molto forte dentro io ho trovato che Sorrentino abbia avuto un'evoluzione seppur rimanendo all'interno della sua essere autore perché insomma le riprese e il modo di girare secondo me è riconoscebilissimo assolutamente assolutamente il tocco di Sorrentino si vede ecco a me ha un po spiazzato secondo me sarà uno di quei film a parte il fatto di sono d'accordo con te di dire che il film va giudicato nella sua interezza perché così si ha un quadro completo però ho la sensazione che è uno di quei film che o ami o odi potrà spaccare secondo me il pubblico ma Sorrentino fa questo sì Sorrentino è vero soprattutto con l'ultimo youth la giovinezza ha diviso molto il pubblico ma parliamo invece dell'interpretazione Tony Servillo nei panni di Silvio Berlusconi a me è piaciuto moltissimo devo dire che c'è stato un grande lavoro perché la voce di Silvio Berlusconi la conosce tutta Italia ecco quindi è una voce che abbiamo ben impressa nella testa e secondo me Tony Servillo ha fatto un ottimo lavoro di di accento e sa calcare come Berlusconi sa fare è un ottimo Silvio Berlusconi nell'ironico nelle 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 battute o anche nel cinismo bravissimo e soprattutto nell'essere nel nell'essere capace noi non lo conosciamo personalmente Berlusconi ma nell'essere capace di passare rapidamente repentinamente da essere un simpatico guastone ad essere uno spietato uomo d'affari e uomo politico il modo in cui tratta Sandro Bondi o meno quello che dovrebbe 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 essere Sandro Bondi che si chiama che è tra l'altro quasi un difficile riconoscibile Fabrizio Bentivoglio nei panni di Santino Orecchia è straordinario è cattivissima quella quella una scena veramente veramente molto molto dura eppure probabilmente è quello perché il personaggio non può essere non può essere diventato quello che è diventato senza essere così forte così duro così spietato assolutamente lui è bravissimo a rendere queste questi caratteri di Berlusconi oltre la voce e oltre a un gioco con il mimico quindi facciale di occhi e di sorriso infatti il un'ultima domanda che ti volevo fare come giudichi il make up che hanno fatto su Tony Servillo per farlo per trasformarlo si però si no è ottimo ma soprattutto è Tony Servillo che è sempre grandissimo quindi è vero che c'è un bel gioco di make up e quindi ci sono tante cose capelli ma soprattutto il sorriso insomma è costruito sicuramente ma è il gioco di un grandissimo ottore che si sa trasformare tutto il cast secondo me è veramente molto molto bello Scamarcio bravissimo Bentivoglio bravissimo Kazian Smuntiak molto molto brava anche lei io ho trovato questa prima parte bellissima sicuramente non è un film facile non è come come non è facile in generale il cinema di Sorrentino non è un film un cinema semplice lo stesso film la grande bellezza che ha vinto l'oscar ma non è un film di Geri bellissimo e questo è un film difficile a me è piaciuto anche il modo in cui ha voluto fare un lavoro sulla storia anche del cinema solo lui poteva fare un'operazione come fece negli anni 70 Bertolucci raccontando il 900 e dividendolo in due parti lui racconta gli anni 2000 l'Italia di adesso è un'altra Italia però avevamo bisogno di un cantore ha scelto un personaggio che è stato che è tuttora un personaggio simbolo dell'Italia e secondo me è un grandissimo film per il momento lo vedremo alla fine è un grandissimo film dal punto di vista cinematografico ma anche dal punto di vista socio politico chioso di facendo anche da parte mia i complimenti soprattutto di toni servillo lo sappiamo ma soprattutto a riccardo scamarcio perché dobbiamo dirlo più di metà del film è su di lui più di metà del film è scamarcio cioè è il protagonista del film è il protagonista che cerca di arrivare a Berlusconi e secondo me è stato eccezionale la sua interpretazione personalmente il film è piaciuto ma non sono così entusiasta come lo sei tu Pierpaolo però per con per completezza bisogna aspettare la seconda parte che uscirà il 10 di di maggio comunque questa prima parte ci ha soddisfatto e con questa recensione è tutto grazie Pierpaolo al prossimo appuntamento